Ben svegliati sulla Nova TV e ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione mattutina. Anche oggi staremo insieme per mezz'ora per fare il punto su tutti i fatti principali del giorno con la nostra rassegna stampa e i nostri approfondimenti. Come sempre sono tanti gli argomenti di cui ci occuperemo anche in questa puntata di Prima Notizia a partire dalla politica in vista del ballottaggio a potenza di domenica e lunedì. C'è poi l'automotive ma anche la cronaca giudiziaria con l'omicidio dell'imprenditore Lagonegrese, Domenico di Lascio, infine spazio ai temi della sanità e al calcio di Serie C con la conferenza stampa di ieri dei vertici della società del club Rosso Blu. Ma iniziamo subito occupandoci dell'emergenza siccità. Ieri in occasione della giornata internazionale contro la desertificazione è arrivato l'allarme della C agricoltori. I dettagli da Isabella D'Andrea. La situazione nelle dighe e negli invasi della Basilicata si fa sempre più critica. Rispetto allo scorso anno nella nostra regione mancano circa 185 milioni di metri cubi d'acqua, 110 milioni soltanto a Monte Cotugno. Una carenza che sta mettendo a rischio le produzioni specie ortofrutticole del metà pontino. A riferirlo è C agricoltori Basilicata che in occasione della giornata della desertificazione e della siccità ha rielaborato i dati Ispra, mettendo in luce le drammatiche condizioni in cui versa la Basilicata. Una giornata istituita proprio allo scopo di sensibilizzare e trovare soluzioni per quelle che rappresentano le sfide più urgenti del nostro tempo, la siccità, la desertificazione, il degrado del territorio. Basti pensare che oltre il 40% di tutta la superficie terrestre nel mondo è già considerata degradata e che ogni secondo un equivalente di 4 campi da calcio di terreni sani subiscono un degrado, per un totale di 100 milioni di ettari ogni anno. E anche riguardo al consumo del suolo, la Basilicata è una delle regioni che desta più preoccupazione. Lo scorso anno ha raggiunto la media più alta in Italia, subito dopo il Molise, con 588 metri quadrati per abitante, per complessivi 31.825 ettari, di cui 22.560 in provincia di Potenza e 9.266 in quella di Matera. In 15 anni sono andati persi 2.356 ettari netti, come se fossero scomparsi 1.500 stadi di calcio. Insomma, un quadro drammatico che spaventa per le sue possibili evoluzioni, al punto che per la CIA è necessario invertire subito la preoccupante tendenza, urgente a tal proposito l'approvazione della direttiva sul monitoraggio e resilienza del suolo, mentre sul tema idrico CIA chiede all'Europa un piano che miri a ripensare lo stoccaggio, la riduzione, le perdite e il riuso delle acque. Anche la regione, però, conclude, deve fare la sua parte attraverso una legge quadro, proteggere le risorse agricole e favorire una gestione sostenibile del territorio. E a proposito di siccità e caldo torrido, sono state sedate nella notte le fiamme di un vasto incendio alla macchia mediterranea, divampato ieri nella zona di Craco-Peschiera. I vigili del fuoco di Matera sono stati al lavoro con tre squadre di caschi rossi. Per tutto il pomeriggio di ieri e per tutta la nottata appena trascorsa, le fiamme hanno lambito soltanto, fortunatamente poi sono state bloccate, una zona dove erano presenti diverse abitazioni, nessuna persona, ovviamente nessuna struttura, è stata toccata dal fuoco. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa, partendo come di consueto dalla prima pagina della Nuova del Sud di oggi, dove in primo piano c'è la politica in vista del ballottaggio a potenza di questa domenica e lunedì 24 giugno. Ma quale inciucio sono stati Fanelli e il centrodestra a offrirmi di tutto, ballottaggio a potenza, come dicevamo, Smaldone spiega l'intesa programmatica contelesca, unica soluzione per evitare altri cinque anni con la Lega. Poltrone promesse, dice l'esponente di potenza ritorna, mi hanno chiamato per darmi posti di ogni genere. Questa è l'apertura della Nuova di oggi. Restiamo poi al taglio centrale con i temi dell'automotive. Si parla soprattutto di transizione all'elettrico e i colossi cinesi guardano al sito Stellantis di San Nicola di Melfi fare i puntati su Cherry e Dongfeng. Sempre nel taglio centrale, estate senza treni, la CGL dice solo in Basilicata vengono chiuse le linee. Andiamo poi nel taglio alto della Nuova di oggi, dove c'è una notizia di cronaca. A Lago Negro, schianto frontale sulla Fondovalle del Noce, perde la vita il 56enne Nicola Colombo. Sempre nel taglio alto, la cronaca giudiziaria con l'omicidio di Lascio, la svolta dopo 35 anni, riaperte le indagini sul delitto di Nemoli del 1989, l'appello del procuratore Francesco Curcio a possibili testimoni. Andiamo poi nel taglio più basso, dove c'è il calcio di Serie C. Tanta umiltà, equilibrio e positività potenza la dirigenza rosso-blu. Su traccia le linee guida per la stagione 24-25, il presidente Donato Macchia e l'amministratore delegato Nicola Macchia danno il benvenuto al nuovo direttore sportivo Enzo De Vito e ufficializzano la conferma di mister Pietro De Giorgio. Andiamo subito alle pagine interne della Nuova del Sud di oggi, dove, come detto, in apertura, In primo piano c'è la politica in vista del turno del ballottaggio a Potenza di questa domenica e lunedì prossimo. La nostra è una battaglia di governo per evitare altri cinque anni. Con la Lega in ciuccio, a destra mi hanno offerto diversi posti. Questo appunto è una dichiarazione ufficializzata ieri sul suo profilo Facebook dall'esponente di Potenza Ritorna, Pierluigi Smaldone, che lo ricordiamo proprio domenica scorsa, ha siglato un'intesa programmatica con il candidato sindaco Vincenzo Telesca insieme a Francesco Giuzio, esponente della Basilicata Possibile. Quindi è stato formato un polo progressista, non ci sarà un apparentamento formale sulla lista, bensì un'intesa sui programmi. Ma Smaldone denuncia proprio di essere stato contattato da alcuni esponenti del centrodestra per chiedere di appoggiare il candidato della Lega, appunto, Francesco Fanelli, espressione delle sette liste del centrodestra. Nel taglio più basso c'è un intervento, ora lavoro per far conoscere a tutti i punti del programma condiviso la nota delle cinque liste a sostegno di Vincenzo Telesca, che adesso, oltre alle cinque liste, se ne aggiungono altre quattro, comprese quelle tre di Smaldone e quella di Giuzio, nonostante, come detto, l'apparentamento formale non sia stato siglato. Andiamo avanti con i temi dell'occupazione e del lavoro. Ci spostiamo a San Nicola di Melfi, dove arrivano, come dice il titolo, i tentacoli di due colossi dell'automotive cinese, che puntano dritto verso il sito Lucano Stellantis, un'indiscrezione che arriva dal giornale di Milano, appunto, che ha rivelato l'interesse di due colossi internazionali dell'automotive del paese asiatico, in particolare la Dongfeng e Cerri, che avrebbero interesse a produrre e ad assemblare auto elettriche in un sito italiano, in particolare nel stabilimento Lucano Stellantis. Questo perché, come vi abbiamo anche raccontato nei mesi scorsi, il ministro al Mimit Adolfo Urso avrebbe ampliato lo sguardo dell'Italia per interessarsi all'installazione di una seconda casa automobilistica proprio nel territorio nazionale, intanto per quanto riguarda il fronte europeo, a partire dal prossimo 4 luglio entreranno in vigore i dazi proprio per quanto riguarda le auto prodotte in Cina. Restiamo in questa pagina con i temi del lavoro, linee chiuse solo in Basilicata, nuova estate da incubo per quanto riguarda i viaggiatori sui treni, i turisti lucani, la CGL dice che nulla è cambiato, dallo scorso anno serve una regia regionale sui trasporti e sempre in questa pagina c'è l'avvertenza Aias Melfi Matera, lavoratori di nuovo in stato di agitazione, si tratta di 1150 lavoratori, appunto l'Aias intanto dice di non poter pagare gli stipendi perché sarebbe in ritardo il pagamento da parte della regione del servizio trasporto a rischio appunto il servizio di assistenza a persone disabili, si tratta di circa 5.000 persone lucane. Restiamo alla cronaca sindacale, in qualche maniera buco di bilancio da 900.000 euro all'alse, è impossibile per l'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura chiudere il bilancio di previsione del 2024, una situazione, come denunciano i sindacati, che sta mettendo a rischio il funzionamento dell'ente e la tenuta occupazionale. I dettagli da Mariolina Notargiacomo. Un deficit pare a circa 900.000 euro che metterebbe a rischio il funzionamento dell'ente e la retribuzione del personale. Nel 2021 i trasferimenti regionali destinati all'Alsia non sono sufficienti a coprire i costi. A denunciarlo sono i sindacati della funzione pubblica di CGL e Cisle Will che annunciano la mobilitazione. L'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura non sarebbe in grado di chiudere il bilancio di previsione 2024. I lavoratori avanzano diverse aspettanze arretrate. A parere delle segreterie sindacali a complicare la gestione dell'ente subregionale è stato il trasferimento in Alsia dei dipendenti regionali funzionalmente assegnati all'Agenzia. Una decisione rilevano i segretari dell'AFP di CGL e Cisle Will, Giuliana Scarano, Pino Bollettino e Antonio Guglielmi, che andava condivisa con le organizzazioni sindacali, invece, escluse. Trasferiti in virtù di un efficientamento amministrativo di fatto mai concretizzato, come dimostrano i conti di bilancio, questi lavoratori si trovano oggi penalizzati da un punto di vista retributivo e di riconoscimento della propria professionalità. Al netto di un'audizione consigliare, dove il personale evidenziando le criticità chiedeva quanto dovuto e della conoscenza di qualche assunzione a contratto, che ha seguito logiche ignare anche nell'uso delle risorse utilizzate, attaccano Scarano, Bollettino e Guglielmi, non vi è stato alcuno sforzo teso al garantire lo sbandierato buon funzionamento dell'Agenzia. Al fianco dei lavoratori sindacati sollecitano in tal senso azioni concrete a garanzia della prosecuzione dell'attività dell'Agenzia per il futuro lavorativo dei suoi dipendenti. Adesso passiamo alla cronaca giudiziaria, torniamo sulle pagine della nuova di oggi, omicidio di Lascio, il pezzo di Fabrizio Di Vito, indagini riaperte dopo 35 anni inquirenti sulle tracce dell'auto utilizzata dai killer. L'appello del procuratore Francesco Curcio a possibili testimoni, se nel gennaio dell'89 avete visto una Fiat regata o una Fiat argenta, fatevi avanti. L'imprenditore fu vittima di un agguato a Nemoli la sera dell'11 gennaio all'interno del suo mobilificio, prima di finire in coma, scusate, e morire, riuscì a dire che erano stati in due a sparargli acquisiti nuovi elementi grazie ad una testimonianza, la figlia dice, sorpresi e fiduciosi nel lavoro della magistratura. Tutti i dettagli nella nuova del sud di oggi. E restiamo all'ambito della giustizia, cause civili infinite, oltre due anni in media per concludere il processo. Si allungano del 15% rispetto al periodo pre-Covid, quindi al 2019, i tempi alla Corte d'Appello di Potenza, terza per lentezza. Migliore invece la performance del Tribunale Materano, 423 giorni. Lago Negro invece fa peggio di tutti con 853 giorni. Pesa, la carenza degli organici. Dettaglia, pagina 4, nel pezzo di Arturo Giglio. Restiamo alla cronaca. Lago Negro piange Nicola Colombo, il noto artista locale, vittima di un tragico incidente stradale. Nella tarda serata di domenica scorsa, la sua fiappanda si è scontrata con un auto articolato sulla Fondovalle del Noce. Lascia moglie e tre figli. Era molto apprezzato per la sua passione per la musica popolare. Adesso voltiamo pagina occupandoci di temi della sanità, aggiornamento del personale nel settore delle anomalie vascolari. Il corso organizzato dalla Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale, in collaborazione con l'Asp di Basilicata, si è svolto a Potenza, lo ha seguito per noi. Vittorio Laviano. Scienza e politica gestionale delle anomalie vascolari. È il titolo di un prestigioso convegno sanitario organizzato a Potenza dalla Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale, cui ha preso parte il gota della materia in Italia. Sentiamo cosa sono le anomalie vascolari. Sono delle lesioni molto gravi del sistema vascolare. Purtroppo non vengono riconosciute abbastanza in tempo, ma il problema vero, il problema per cui noi siamo qui riuniti, è che non parliamo da tecnici, ma parliamo da pazienti, quindi dal grande pubblico, quando avviene questo evento e quando in qualche modo, perché non sempre lo viene riconosciuto, il paziente non sa dove andare. Perché se andiamo in qualsiasi ospedale, non c'è l'etichetta anomalie vascolari, c'è il reparto di fibrogia vascolare, di angiologia. Chi lo cura? La domanda è una lesione molto spesso rossastra, alle volte sull'acute e quindi diventa, ci va al dermatologo, se è un bambino si va dal pediatra, ma in realtà il paziente non sa dove andare. Da qui i famosi viaggi della speranza, la perdita di tempo, i giri per l'Italia, quando addirittura non si va nelle mani di persone poco corrette che approfittano della disperazione dei pazienti per la loro attività privata. Ecco, noi cerchiamo di fare il punto, fare chiarezza sulla situazione e spiegare a questi pazienti che esistono sedi del sistema sanitario nazionale italiane capaci, in grado e riconosciuti internazionalmente per curarle, trattarle, senza causare ai cittadini delle spese assolutamente inutili. La Fondazione Viva Ale presta massima attenzione alle persone con queste patologie rare, come ricorda bene la madre della giornalista, Lucana, prematuramente scomparsa. Nel ricordo di Alessandra stiamo portando avanti questo progetto, veramente con una missione che ci siamo dati, veramente importante, di attenzione alle persone che hanno questo tipo di patologie, che per la loro rarità sono abbastanza messe da parte. La specificazione di un angioma ha caratterizzato gran parte del dibattito a potenza. Un angioma, il tumore del bambino che scompare da solo nella gran parte dei casi, va trattato in un modo, una malformazione vascolare che invece segue il paziente ai noi per il corso della sua vita e che spesso provoca problemi funzionali anche molto gravi, ha e prevede un trattamento completamente diverso. Quindi voi capite che se si pensa che tutto sia angioma e si tende a trattare tutte queste malattie nello stesso modo, le conseguenze per la popolazione che ha bisogno di ricevere il trattamento sono disastrose. Infine, la situazione nel territorio della ASP che ha collaborato all'organizzazione del convegno scientifico? C'è sicuramente una rete territoriale adatta ma da completare per quanto riguarda la necessità di intercettare queste patologie, questi pazienti e soprattutto i pazienti e le loro famiglie e soprattutto di immetterli su un percorso diagnostico-terapeutico validato che deve trovare il punto di riferimento ospedale in centri che trattano queste patologie in numero adeguato, cioè dove c'è massa critica. Questo garantisce i risultati degli interventi. Poi c'è la necessità di ripresa in carico del paziente e delle loro famiglie per i percorsi a seguire. Passiamo adesso alle pagine locali. Iniziamo con quella dedicata a Potenza e Provincia. Sorrisi per tutti, l'arte dei clown, fuori dalle corsie. Ha riscosso grande successo la prima festa dell'allegria. Numerosi potentini che hanno partecipato alla manifestazione organizzata al Parco Baden-Powell dai volontari attivi negli ospedali, in particolare dal gruppo Gente. Allegra, restiamo a questa pagina, andiamo nel taglio più basso. Ritornando alla sanità, su Melfi, affermazioni gratuite e inconsistenti dalla Will FPL. L'azienda San Carlo nega la carenza di personale nell'ospedale Federiciano San Giovanni di Dio. E siamo alle pagine di Matera e Provincia. Rubagioielli in una casa denunciata. Una babysitter insieme a due complici avrebbero truffato, avrebbero derubato alcune famiglie di circa 1.500 euro tra monili in argento e oro per poi rivenderle. Restiamo in questa pagina. Due defibrillatori in dono alla polizia dall'Associazione Gianfranco Lupo. Adesso voltiamo pagina e torniamo. E siamo al calcio di Serie C. La stagione 24-25 del Potenza è ufficialmente partita ieri mattina nell'auditorium della Fondazione Potenza Futura. La conferenza stampa del presidente Donato Macchia insieme all'amministratore delegato Nicola Macchia che hanno ottenuto a battesimo il DS, il nuovo DS Enzo De Vito ufficializzata la conferma di mister Pietro De Giorgio. I dettagli da Donato Valvano. È partito ufficialmente la stagione 2024-2025 del Potenza Calcio. Nell'auditorium della Fondazione Potenza Futura il presidente Donato Macchia l'amministratore delegato Nicola Macchia hanno ottenuto a battesimo il nuovo direttore sportivo Enzo De Vito che dopo la toccata e fuga Potenza della settimana scorsa ora è tornato nel capoluogo per mettere giù un piano di lavoro per la prossima tornata agonistica piano di lavoro che riguarderà un po' tutti gli aspetti da quelli organizzativi a quelli tecnici a cominciare dalla conferma dell'allenatore Pietro De Giorgio che dopo aver centrato la salvezza nella passata stagione da precario si è guadagnato sul campo i galloni di responsabile della guida tecnica della prima squadra questa volta sin dal ritiro precampionato con sede e data ancora da stabilire una sfida che il tecnico calabrese ha accolto con grande entusiasmo se devo definirla la cosa non è né sfida né niente per me è tutto amo questo lavoro lo voglio fare e credo che venga dopo un percorso fatto ormai da tre anni perché sono nel terzo anno a questo qua facendo anche quello che è il ruolo da secondo che mi ha insegnato tanto quindi arrivo dopo un po' di gavetta e la definisco il mio tutto perché darò tutto me stesso quella 2024-2025 dovrà essere la stagione della ripartenza dopo la sofferenza dell'anno scorso abbiamo tutta la voglia e tutte le intenzioni di fare bene con un maggior senso di responsabilità con tanto entusiasmo tanta voglia di fare bene tanta voglia di ripartire in un qualche modo dall'entusiasmo dello scorso anno di due stagioni fa e della vittoria contro i Monterosi quindi ambizione e io credo in una parola che possa essere come dire la parola portante di questa nata è equilibrio l'augurio logicamente di vincere tutte le partite sarà improbabile ma ci proveremo con tanta voglia tra le novità di questa stagione il cambio di ruolo di Peppe Lolaico che non sarà più team manager ruolo assegnato a Paolo Fatigante con lo stesso Lolaico che sarà il responsabile del settore giovanile con Pasquale Arleo direttore tecnico e se volete approfondire tutti i dettagli della conferenza stampa di ieri invito a leggere pagina 12 e 13 della Nuova del Sud di oggi diamo uno sguardo rapido al titolo Potenza si riparte con entusiasmo il presidente Macchia e l'AD Nicola Macchia presentano i piani del Club Rosso Blu le parole chiavi come abbiamo sentito umiltà equilibrio e positività nelle due spalle Lolaico nuovo responsabile delle giovanile Pasquale Arleo direttore tecnico l'altra spalla il DS De Vito dice ci sono elementi per fare bene De Giorgio faremo il 4-3-3 Andiamo avanti con l'ultima pagina della Nuova ancora a Serie C al Via il 25 agosto la Lega Pro ha ufficializzato le date della stagione 24-25 l'11 e il 18 agosto prossimi si parte con i primi due turni preliminari di Coppa Italia e chiudiamo così l'ampia pagina dedicata alle notizie dalla nostra regione dando uno sguardo al tempo previsto per oggi con i nostri esperti Ben trovati un aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì quando ritroveremo a livello europeo questa zona di bassa pressione in approfondimento tra l'oceano Atlantico il Portogallo e la Spagna invierà correnti umide sulla Francia con forti temporali mentre l'Italia verrà interessa la pressione africana richiamata appunto da questa zona di bassa pressione più ad ovest e quindi da noi sull'Italia Balcani e Grecia campo anticiclonico con cieli sereni o poco murosi più che altro arriverà aria molto calda dal deserto del Sahara verso tutte le nostre regioni ma il target dell'aria calda sarà in particolar modo il centro-sud dove già inizieremo a toccare i 35 gradi in vista di giovedì e venerdì punte anche di 40 gradi tutti i dettagli precisi gli approfondimenti sull'app gratuita di Trabi Meteo previsioni per oggi Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. E adesso spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, in primo piano in quasi tutti le prime pagine. Troveremo l'Europa, si tratta tra i veti, meloni, no, pacchetti preconfezionati di nomine. Gelo con Macron e Scholz, vertice dei leader sul futuro di Commissione e Parlamento. TASC dice, Giorgia, la maggioranza c'è già nel di spalla. Ita Lufthansa, Sidi Bruxelles, i vincoli dell'Unione Europea, sottratte e scali. Via Libera entro il prossimo 4 luglio. Una brutta notizia di cronaca, sempre di spalla. Affonde il barcone, strage di bambini vicino alla Calabria. Migranti, altre 10 vittime in Sicilia. Andiamo avanti con la prima della stampa. Anche qui in primo piano c'è la politica europea. Ursula Bis, la sfida di meloni. PPS, socialisti, no ai conservatori. La Premier dice, siete autonomi. Vediamo i voti in Parlamento. Commissione slitta l'accordo per il secondo mandato. Tagliani dice, l'Italia ha diritto a un vicepresidente di peso. Anche qui sulla prima di Repubblica in primo piano c'è la battaglia di Bruxelles. La ritirata di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, si sfila dalla trattativa. Snobbata da popolari e socialisti, rischia la fuga dei conservatori verso Le Pen. Alla cena tra i capi di governo, dicono da Repubblica, affiorano i vetti incrociati sulle nomine dell'Unione Europea. No di tasca, socialista, costa come presidente. Slitta al prossimo consiglio la conferma di von der Leyen nel taglio centrale. A largo della Calabria la strage dei bambini. Roccella Ionica, la carretta del mare su cui hanno perso la vita. Lo vedete al centro della prima di Repubblica, 65 persone di cui 26 bambini. Il fatto quotidiano, passate le elezioni, Meloni in vie, supermissili a Kier. Qui si parla di guerra senza limiti, come la definisce il fatto. La Nato vuole più testate nucleari in Unione Europea, pronte all'uso. La prima del giornale, Ursula Biss, anche qui il risico di Bruxelles in apertura. Meloni frena, vetti sull'appoggio dei conservatori. Trattativa in salita, la Premier dice no ad accordi preconfezionati. Sempre nel taglio centrale, suicida il generale Graziano, perso senza mia moglie, aveva detto. Il sole 24 ore, il quotidiano economico-finanziario, in primo piano c'è il fisco, il conto del concordato, redditi su anche di 8 volte per gli evasori. Scusate, si parla di partite IVA. Prime simulazioni ufficiali sulle richieste ai contribuenti per l'intesa. Con lo Stato, nel taglio più basso, farmaci, l'intelligenza artificiale, accelera la scoperta di nuove molecole. Il messaggero, nel taglio più alto, Ita Lufthansa, il primo via libera di Bruxelles, lo chiede l'antitrasco in condizioni. Giorgetti, nozze vicine. Il domani, la strada stretta di Meloni, in Unione Europea. I leader accelerano su von der Leyen, Tagliani in media per convincere il PPE ad aprirsi ai conservatori. Nel taglio basso, naufragio in Calabria. E un'altra, Cutro, una barca a vela piena di migranti, affonda in alto mare l'indifferenza di Italia e Europa. Lo vedete appunto nella fotografia centrale. Siamo adesso alla prima di avvenire anche qui nel taglio alto. 10 cadaveri e 66 dispersi, senza soccorsi, un mare di morti, titola il quotidiano dei Vescovi. Si parla appunto di migranti, trovate vittime sotto coperta a largo di Lampedusa. Naufragio nello Ionio di un veliero dalla Turchia. Fra gli scomparsi purtroppo ci sono anche 26 bambini. Passiamo adesso allo sport con i quotidiani sportivi. Siamo alla Gazzetta dello Sport. L'Italia che cambia. Spalletti studia le mosse anti-Spagna. Lo ricordiamo, si gioca agli europei questo giovedì. Una nazionale più tosta per continuare a sognare il CT. Pensa a Mancini per frenare Morata e ai centrimeti di Cristante accanto a Giorginio. Chiudiamo con il Corriere dello Sport, il Toro e Scamacca. Italia tutto sul 9 e servono i suoi gol. Giovedì la Spagna e il centravanti non segna in azzurro dallo scorso ottobre. E questa era l'ultima prima pagina della nostra rassegna stampa di oggi. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con informazione regionale sulla nuova TV torna alle 13.50 con il primo TG di oggi. Per questa edizione è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.